Dello scrittore, 1909. Chi, per uno dei mille casi della vita, sia stato posto nella necessità o nella possibilità di vivere di un suo innato talento letterario, deve vedere come gli convenga definire il proprio rapporto con la sua problematica professione, che in realtà non è una professione. L'attività di un cosiddetto libero scrittore è considerata oggigiorno, contrariamente a quanto è avvenuto finora nella storia, una professione, probabilmente perché è esercitata come un mestiere qualsiasi da molti che non hanno per essa alcuna vocazione. In realtà, lo scrivere occasionalmente è al di fuori di ogni impegno, le garbate cose al cui insieme si dà il nome di letteratura. Non mi sembra essere un lavoro che occupa tutta la vita, né meritare il nome di professione nel senso usuale della parola. Il libero scrittore, in quanto è un uomo per bene, e in certa misura anche un artista, non ha una professione, ma è invece uno che vive in ozio, e per proprio conto, producendo appunto solo occasionalmente e secondo l'umore e il favore del momento. Perciò, ogni libero scrittore trova una certa difficoltà a orientarsi nella sua ambigua situazione, a metà fra il redditiere e lo scrittore non libero, cioè il giornalista. Avere una professione che non è tale non è sempre fonte di gioia. Alcuni, spinti dal bisogno di un'attività continuativa, aumentano la mole della loro produzione, fino a superare i limiti delle loro naturali capacità, e diventano dei poligrafi. Altri sono spinti dalla libertà e dall'assenza di obblighi all'indolenza, perché è proprio l'uomo privo di professione che più facilmente si corrompe. E tutti indistintamente gli assidui come i pigri soffrono della nevrastenia e dell'eccitabilità proprie delle persone non abbastanza occupate e troppo abbandonate a se stesse. Ma non è di questo che volevo parlare. Queste sono faccende che ciascuno deve regolare per conto suo. Quale idea vogliano farsi gli scrittori della loro cosiddetta professione è cosa che deve essere lasciata a loro stessi. Tutt'altra cosa, da ciò che pensano del loro lavoro, spesso con amara autoironia, gli scrittori e i letterati, è l'idea che l'opinione pubblica si fa della professione dello scrittore. L'opinione pubblica, infatti, cioè la stampa, la gente comune, le associazioni, chiunque insomma non sia egli stesso scrittore, si fa di tale professione e dei doveri che essa comporta un concetto molto più semplice. E così succede al letterato esattamente la stessa cosa che succede ad ogni medico, giudice o pubblico funzionario. La natura e il carattere della sua professione gli vengono chiariti dal genere di istanze che gli sono poste dall'esterno. Ogni santo giorno qualunque scrittore che abbia raggiunto una certa notorietà apprende dalla posta che riceve ciò che pubblico, editori, stampa, colleghi si aspettano da lui e pensano di lui. Sotto questo aspetto le esigenze del pubblico e degli editori sono per lo più assolutamente concordi e assai modeste. Da chi ha scritto una commedia di successo ci si aspetta nuove commedie di successo. Dall'autore di un romanzo o d'ambiente contadino altri romanzi d'ambiente contadino dallo scrittore di un libro su Goethe e ulteriori libri su Goethe. A volte l'autore stesso non la pensa diversamente né desidera altro e allora il buon accordo e la soddisfazione reciproca sono assicurati per sempre. L'inventore del tirolesino continua con la tirolesina il creatore dei quadri della vita dei coscritti coi quadri della vita di caserma e a un Goethe nella sua stanza di studio fanno seguito a un Goethe a corte e un Goethe sulla pubblica via. Gli autori che così si conducono hanno realmente una professione praticano realmente un mestiere sfruttano a fondo il loro orticello e possiedono l'attributo e il segno distintivo o segreto degli autentici scrittori professionisti e cioè la pregiata penna. Questa pregiata penna è la scoperta di un direttore di giornale rimasto purtroppo anonimo che già alcuni decenni or sono individuò nel cosiddetto elemento personale la cancrena del giornalismo. Come è noto egli privilegiò il nome alla personalità e puntellò ogni nome utilizzabile con una pregiata penna di cui seppe insegnare a piena salvaguardia della vanità degli autori i lavori prodotti su commissione. Questa è la tecnica oggi dominante nella terza pagina dei giornali a meno che essa non renda omaggio al culto della spersonalizzazione col nobile metodo dell'assoluto anonimato. Così per esempio può accadere che lo scrittore di un romanzo di successo sia colto da sorpresa leggendo il seguente telegramma inviatogli da un grande giornale pregola urgente invio chiacchierata sua pregiata penna circola prevedibili sviluppi tecnica aviatoria garantito cospicuo onorario. Per un direttore di giornale infatti ogni autore mediamente conosciuto si può prendere in considerazione solo come nome. Il suo ragionamento è questo. I lettori chiedono titoli interessanti ed attualità e insieme pretendono nomi celebri. Combeniamo l'uno e l'altro. Che cosa ci sia poi scritto nell'articolo commissionato non ha la minima importanza. Se si possiede una pregiata penna si può benissimo avviare una chiacchierata su Gerhard Hauptmann con un brillante discorso introduttivo su Zeppelin. Ci sono penne sommariamente pregiate che vivono comodamente di una simile attività cialtronesca. In tal modo si possono più o meno caratterizzare le esigenze poste dalla stampa ai liberi scrittori. Rientrano altresì in questo costume le inchieste dove si agibiscono come se fossero a un ricevimento mascherato professori che parlano di teatro attori che parlano di politica poeti che dicono la loro in fatto di economia politica e ginecologi che si esprimono in merito alla salvaguardia dei monumenti. Tutto sommato un industriarsi innocuo e divertente che nessuno prende sul serio e che fa poco danno. Peggiori sono quelle richieste della stampa che puntano sulla vanità dei letterati e sul loro desiderio di farsi pubblicità all'insegna del moto una mano lava l'altra. Tra queste cose ignobili annovero anche gli articoletti propagandistici e gli scritti autobiografici che con accompagnamento di ritratti vengono stampati in molti giornali e supplementi illustrati. Di fronte a tali offerte e inviti lo scrittore impara poco a poco a riconoscere la vera natura della sua professione e se proprio non ha nient'altro da fare può sempre riempirsi le sue giornate sbrigando questa corrispondenza copiosa e sostanzialmente inutile alla quale poi si aggiunge crescendo e moltiplicandosi con gli anni una ricca e inattesa corrispondenza privata. Non voglio parlare delle lettere di postulanti chiunque ne riceve ma il fatto accadutomi di un detenuto appena rimesso in libertà con 35 precedenti penali che mi scrisse offrendo di mandarmi il suo curriculum perché ne facessi l'uso letterario che preferivo dietro compenso una tantum di mille marchi in verità mi ha sorpreso che qualsiasi bibliotechina e non pochi studenti privi di mezzi ritengono che un autore trovi divertente regalare i suoi libri a destra e a manca è meno piacevole è altrettanto curiosa è l'annuale pretesa di tutti i circoli tedeschi e di tutti i licenziandi dei licei di Germania di ricevere per i loro anniversari e le loro feste d'occasione contributi letterari da parte di tutti gli scrittori tedeschi quasi irrilevanti sono al confronto le richieste dei collezionisti di autografi anche quando costringono a rispondere unendo la relativa francatura ma tutti gli editori direttori di giornale licenziandi della maturità ragazzette e i circoli del mondo non danno messi assieme altrettanto da fare agli scrittori quanto i loro colleghi dallo scolaro sedicenne che spedisce alcune centinaia di poesie quasi illegibili chiedendo un esame e un giudizio approfondito fino al vecchio e consumato letterato che rivolge cortese preghiera di recensione favorevole del suo ultimo libro facendo intendere con chiarezza non disgiunta da cautela che non mancherà tanto in caso positivo che negativo di ripagare la gentilezza di fronte agli editori ai giornali ai postulanti ai troppo ingenui si può osservare la calma e il sorriso ma i maneggi spudrati e il fastidioso arrivismo di tanti scrittori da strapazzo tutt'altro che indispensabili sono tali sovente da muovere a rabbia e a disgusto il giovincello che oggi ti invia le sue poesie con un'ampollosa missiva adulatrice può rispondere dopo domani alla tua lettera meditata cortese ma negativa con un articolo pieno di volgari ingiulie sul suo settimanale di provincia conosco e sono amico di un gran numero di scrittori per i quali ho grande stima mentre ciascuno di loro ha fatto esperienze del genere mai nessuno fra noi ha scelto simili sistemi fondati sull'accattonaggio e sul ricatto è lecito dunque concludere che i colleghi appartenenti all'immarcescibile categoria dei piaggiatori e dei mendicanti sono quelli che valgono meno e ritenere che nessun uomo da bene e nessun genio avrà a risentire danno dal fatto di abbandonare al suo destino la massa dei seccatori gettando tranquillamente le loro inesauste richieste nello stesso cestino in cui vanno a finire le lettere dei postulanti extraletterari e alla fine del ciclo si vede che ciò che sembra costituire il lavoro professionale e ufficiale del letterato si risolve per il vero scrittore in una quantità di sciocchezze ed inutili scribacchiature mentre il suo effettivo lavoro adonta di tutte le opinioni in contrario non è regolabile né riducibile a professione la nostra professione consiste nel tacere nell'aprire gli occhi e nell'aspettare che giungano le ore propizie e allora il lavoro pur si richiede sudore e notti insonni è meraviglioso e non è più un lavoro